Paolo Coluzzi, Sales Area Manager di Videogecom e Stefano Delprete, CEO di Atim. Ben ritrovati. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Jean-François prima parlava di FIGITAL. Quale miglior gancio, quale migliore palla alzata per voi che ci andete proprio a parlare di come uno showroom non è più solo fisico, ma avete trovato il modo di far rivivere l'esperienza anche in digitale? Lascio a voi la parola. Assolutamente. Spero nel frattempo che sia partita la slide. Benissimo, vediamo tutto. Benissimo. Io sono Paolo Coluzzi, sono di Videogecom, Sales Area Manager. Siamo un sistema integrato presente da oltre 20 anni, specializzato in soluzioni audio-video e controllo. Però abbiamo deciso in questa occasione di condividere lo spazio che ci è stato riservato per presentare insieme ad Atim quello che è un caso concreto. ringrazio infatti IFM e ING su quelli che sono stati i loro interventi, ma in questo momento vorremmo con Atim, la persona di Stefano De Prete, amministratore delegato, portarvi a conoscenza di come ci siamo mossi per appunto mettere al centro dell'Homming Channel Strategy la showroom. Io passo rapidamente la parola a Stefano per poi rivederci subito dopo. Paolo, grazie. Buongiorno. Sono appunto Stefano De Prete, papà di due splendidi figlioli e anche amministratore delegato di Atim SPA. Atim è un'azienda che opera nel settore della sub fornitura per l'industria del mobile, da oltre 25 anni presente sul mercato nazionale e mercati internazionali e abbiamo sempre avuto come obiettivo quello di plasmare un po' il futuro del design dei mobili e aumentare la fruibilità degli spazi, occupandoci appunto di sistemi per ampliare le superfici fruibili all'interno di un appartamento. Ci ho premesso, oggi ho l'onore di essere ospite in questo webinar per portare a vostra conoscenza la mia esperienza da consumer avuta appunto con VideoGECOM. Il progetto di cui siamo a parlarvi si chiama We2You in Atim, We2 per VideoGECOM. di fatto è un progetto che è nato durante il periodo di lockdown del 2020 da una mia personale idea poi diventata realtà grazie alla professionalità di VideoGECOM che era quella appunto di riuscire ad avere la possibilità di ricevere i nostri clienti nazionali ed esteri all'interno della nostra showroom durante questo periodo ponte che ci ha visto appunto bloccati a casa per lunghe settimane quindi impossibilitati a visitare i clienti ed essere visitati dai clienti e non solo, non solo perché? Perché spesso mi sono trovato in giro per il mondo io e i miei area manager a dover spiegare prodotti decisamente nuovi per il mercato con non poche difficoltà nel cercare di trasmettere il concetto prodotto e perché esso venisse capito. Quindi abbiamo cercato di fare sintesi di questo desiderata di questi desiderata e con VideoGECOM siamo riusciti a produrre quello che per noi è un prodotto eccezionale un prodotto che fin dai primi minuti che abbiamo iniziato i primi brainstorming con i ragazzi VideoGECOM mi ha dato un entusiasmo incredibile vedrete tra poco il video che Paolo gentilmente vorrà lanciare dove appunto mostreremo l'inizio dell'experience da parte del cliente atterrando nella nostra meeting room, eccoci, dove abbiamo appunto una telecamera che inquadra il nostro tavolo di riunioni. Vanessa in questo momento sta dando il benvenuto al cliente e quindi da qui parte una normalissima riunione, una normalissima web meeting come quello che può essere quello di oggi. Dove sta la differenza? La differenza sta che oggi noi ci parliamo e ci vediamo vis-à-vis, d'accordo? E abbiamo la possibilità di condividere degli schermi, condividere dei grafici, delle slide, dei documenti Noi siamo andati oltre, siamo andati oltre portando il cliente fisicamente all'interno del nostro showroom Cosa significa questo? Significa che non parliamo di un virtual tour pre-registrato non parliamo di realtà aumentata perché noi viviamo di prodotto Noi siamo un'azienda che produce manufatti Dunque cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di rendere l'esperienza dei nostri clienti vera, reale, come se fossero qua Dunque, in diretta, audio, video, possibilità di interagire con noi possibilità di interagire con il prodotto Perché? Perché io ho la possibilità di ricevere il cliente dar lui un'immagine totalitaria di quella che può essere la mia showroom piccola, medio, grande, grazie a delle telecamere con autotracking che seguono, come vedete in questo momento, la signora durante la sua iniziale passeggiata all'interno dello showroom per cercare di trasmettere le dimensioni e l'organizzazione della stessa stanza di lavoro Io la definisco sempre la nostra sala operatoria questa, no? Perché di fatto i nostri pazienti, i nostri prodotti sono l'oggetto del contendere in questo caso Non solo, non ho quindi solo la possibilità di rendermi conto dell'insieme della showroom ma grazie a un'applicazione sviluppata da VideoJcom assolutamente per la prima volta abbiamo la possibilità, grazie ad altre telecamere poste in maniera strategica sul soffitto dello showroom di andare a fare dei focus sui singoli prodotti come tabbando sul tablet o in ordine alfabetico o per mobile espositivo nel mio caso io faccio sistemi appunto integrati nei mobili dei nostri clienti e la telecamera che io ho deciso precedentemente essere la telecamera più idonea all'inquadratura del tal prodotto in questo caso stiamo mostrando un prodotto di nome Launch mi va a stringere appunto il focus sul prodotto quindi io posso fare il mio speech col cliente, spiegare le peculiarità del prodotto dargli una percezione reale di quelli che sono le proporzioni, le finiture, il funzionamento la rumorosità è un caso, non lo dico appunto a caso perché nel nostro settore il discorso della qualità, della percezione, del rumore è un discorso a cui il cliente è molto attento quindi io ho la possibilità di mostrare il prodotto e di farglielo anche diciamo così ascoltare questo è un altro caso, un altro prodotto quindi Vanessa ha tabbato sul tablet un'altra volta mostrandovi un altro prodotto e le sue peculiarità è uno strumento potentissimo è potentissimo perché ci dà la possibilità a tutti i livelli della organizzazione aziendale di interagire con il cliente intendo dire le vendite, intendo dire il marketing intendo dire la ricerca e lo sviluppo dei nostri clienti piuttosto che l'equipe tecnica che poi andrà a installare il prodotto a casa del cliente finale, del consumatore quindi non è da vedere solo come prodotto aggiunto per l'attentata vendita dal nostro cliente partner come vedete ho la possibilità di passare nelle funzioni dalla camera generale diciamo alle varie camere che mi fanno il focus sul singolo prodotto vediamo questo è un prodotto simile a quello che abbiamo visto poco anzi con delle caratteristiche tecniche magari impercettibili differenti rispetto a quello di prima quindi è qualcosa che io avrei veramente nonostante sia il mio lavoro fatica a far capire al mio cliente mentre con questo strumento è Savasano Dir semplicissimo lo vede da sé il cliente in questo caso Paolo se stoppi un attimo posso aggiungere un'altra peculiarità di prodotto grazie che è appunto quella di poter interagire col mio smartphone o col tablet stesso su cui c'è caricata l'applicazione che mi fa fare da regia e quindi utilizzando la fotocamera del mio tablet o del mio smartphone posso andare a fare delle riprese ulteriori quindi non presettate dalle telecamere ambientali e quindi andare per dire mostrare nel nostro caso la parte inferiore del prodotto che diversamente non potrei vedere e quindi andare a decantare le caratteristiche di montaggio piuttosto che appunto di funzionamento dello stesso lo sblocca pure vedete che la resa visiva è eccezionale cosa posso aggiungere Paolo in merito a questo quello che si può certamente dire che è uno strumento praticissimo nel senso che una persona sola in showroom è in grado di poter condurre l'intera riunione quindi dalla sala riunioni dove andiamo a parlare magari di tematiche vendite quindi prezzi oppure caratteristiche tecniche poter condividere Paolo, correggimi se sbaglio ma tutti i contenuti che voglio quindi portare il cliente sul mio sito far vedere un'istruzione di montaggio mostrare loro un po' di fotografie di prodotti ambientati da altri clienti tutto questo sulla stessa durante lo stesso meeting senza dover saltare di palinfrasca è un classico, durante un meeting vai a vedere il mio sito clicco, mi collego, mi distraggo quindi io riesco ad avere veramente il controllo del cliente da inizio riunione alla fine noi esattamente con questo strumento con questa soluzione oltre a poter raggiungere queste funzionalità e non è da sottovalutare abbiamo sempre un contatto diretto con il cliente perché se avete visto nelle immagini c'è sempre la panoramica di sala con la persona che si muove nell'ambiente al di là del dettaglio e Atim dal lato suo ha sempre visibilità del cliente quindi è un rapporto bidirezionale non è un incontro virtuale ma si viene veramente portati all'interno della showroom Paolo, scusa ma aggiungo l'aspetto dal mio punto di vista e qui parlo da consumer perché io sono un potenziale cliente di voi tutti ho sentito cose interessantissime un mal di testa bestiale perché già la mia propensione a guardare avanti e credo e spero appreziate il fatto di dove siamo arrivati seppur con questo progetto pilota ma del tutto funzionante dal mese di ottobre abbiamo già fatto quasi 100 meeting intendo dire che siamo a 96 abbiamo attivato tra clienti già esistenti oppure nuove clienti per me il cliente è il produttore di cucina tipicamente o una filiera distributiva in giro per il mondo abbiamo attivato 11 nuovi clienti e due agenti di commercio per due stati esteri in cui non eravamo presenti quindi per farvi capire noi partecipiamo tutti gli anni a delle fiere ecco clienti che ci visitavano in fiera avevano la possibilità di vedere il prodotto in fiera ma sapete quanto possono essere dispersivi le fiere chiaro è un'opportunità che ci dà la possibilità di fare il giro del mondo in 3, 4, 5 giorni ma poi in concreto bisogna prendere la valigia andare dal cliente e cercare di fare business lì qui è molto diretto perché il rapporto è uno a uno azienda cliente e riusciamo veramente a guidare il cliente nella scelta migliore quindi ritengo la mia esperienza soddisfacente al 120% credetemi è stato qualcosa di sorprendente ben oltre le nostre aspettative due parole sulla prima di lanciare l'instant poll due parole su videogecom mi sento di dover spendere perché non è semplice trovare dei partner a cui sottoporre un'idea senza avere la capacità di esporla bene tecnicamente perché io di lavoro faccio un'altra cosa avevo solo la prospettiva di riuscire a fare quello che siamo riusciti a fare ma quello che c'era in mezzo erano delle parole del tutto fantasiose e forse folli all'inizio perché nulla era presente sul mercato anche in grosse aziende del nostro settore e devo dire che sono stati eccellenti nella conduzione dell'incontro sin dal primo briefing non ci conoscevamo e devo dire che ottimo veramente dieci lode grazie così non vale però ti ringrazio nel senso che anche dal nostro punto di vista non è facile trovare chi è disposto a sedersi ad un tavolo e ragionare insieme e costruire insieme un qualche cosa e non ti nascondo che tu sei come Atim un apripista ce lo hai raccontato con l'esperienza con i tuoi clienti con i tuoi nuovi clienti ma effettivamente questa soluzione può essere declinata non solo nel manifatturiero ma anche in altri ambiti stiamo ricevendo richieste da chi si occupa del luxury cioè chiunque ha un qualche cosa di produttivo ma anche nell'ambito fieristico c'è chi sta cercando di trovare un punto di congiunzione tra quello che è l'allestimento del reproprio degli spazi tu ne sei un fruitore come Atim però serve aggiungere un qualche cosa in più e questa esperienza ci sta dando qualche indicazione ecco sì Paolo non è certo non ha la presunzione io qui parlo sempre da cliente non ha la presunzione di voler essere un tool che andrà a sostituire gli altri assolutamente no il sito il catalogo i video in 3D che danno la capacità al cliente anche che non conosce il prodotto di capire come utilizzarlo e come montarlo ma è appunto uno strumento aggiunto che noi tecnici commerciali io mi definisco così anche se poi sono chiamato ad altre responsabilità aggiunte in azienda avremo quando potremo tornare e spero non manchi molto ad andare a visitare i nostri clienti nei quattro angoli del globo perché questo perché io faccio fatica avete visto le dimensioni il volume dei nostri mobili a pensare di trasferire i miei mobili da un cliente faccio già fatica a portarlo nelle fiere con costi inenarrabili oggi ho una fiera 24x7 tutto l'anno aperta compatibilmente con gli orari diffuso orario dove io posso mostrare prodotti vecchi prodotti nuovi prodotti customizzati dunque veramente ho di fronte a me uno strumento che non vedo l'ora di andare a utilizzare di fronte al cliente in collegamento quindi sono in India dal mio distributore devo parlargli di un prodotto nuovo se ti interrompo ma stiamo andando in chiusura con gli ultimi 5-6 minuti quindi volevo avvisare anche Paolo eccoci ok certo andremo molto snelli vai Paolo tocca a te lancerei appunto il pool per quanto riguarda questa soluzione della showroom remotizzata ok quindi quali funzioni dettagli possono trarre più giovamento ad utilizzare la soluzione se le vendite il marketing la human resource la prototipazione del prodotto il supporto alla delivery o la ricerca e lo sviluppo la 3 la funzione human resource l'abbiamo inserita proprio perché sembrerà banale ma aver avuto la possibilità di dare comunque continuità di ruolo ai commerciali interni ai nostri agenti di commercio ai nostri area manager quando non potevano andare a visitare il cliente ma quindi anche da casa o dal lettino al mare con un tablet avere la possibilità di interagire col cliente col prodotto e con l'azienda è stato veramente vincente a voi vediamo se ci sono i risultati vediamo che per il 59% la risposta arriva alla funzione delle vendite certo sì chiaro pensiamo tutti a fare business è normale il marketing sì però al secondo posto 41% perché è veramente deflagrante avere la possibilità non parlare di un prodotto ma spiegarlo in tutto e per tutto funzioni human resource al terzo posto col 24% la prototipazione prodotto e supporto alla delivery 21% ricerca e sviluppo 17% grazie per aver fornito queste vostre indicazioni intanto grazie veramente Stefano io vado avanti rapidamente quindi che cosa abbiamo fatto all'interno della showroom videogecom videogecom chiaramente è specializzata nell'audio video dati e appunto come diceva Stefano tutto questo non vuole andare a sostituire sarà uno strumento ed è uno strumento in più alle vendite non a caso noi abbiamo anche realizzato intanto ecco questo è quanto c'è nascosto dietro la realizzazione in Atim scendendo un po' più nel nel materiale tecnichese però quello che io vi manderei rapidamente se no questo lo possiamo anche saltare come come pull volevo sottolineare il che cosa abbiamo messo in piedi una nostra showroom all'interno della quale sperando che tutto si sblocchi quanto prima di potervi accogliere per vedere tutta una serie di aree tematiche che vanno anche oltre quanto integrato all'interno di di Atim quindi da quelli che sono scenari di room booking per appunto riservare ambienti spazi di lavoro all'automazione delle sale quella che è la privacy con la possibilità di andare ad oscurare quelle che sono le ampie superfici vetrate che troviamo nei nuovi uffici al controllo delle luci e del video per poi senza dimenticare tutto quello che è la componente audio con soluzioni completamente invisibili e performanti idem per la per la cattura dell'audio quindi con con sistemi microfonici tradizionali e non io ecco vorrei concludere con quello che è anche una una divisione legata ai large display ai level e a quello che è il discorso di auto tracking per evitare di avere appunto persone dedicate alla regia delle soluzioni io veramente vi ringrazio e vi rimando al touch point per ulteriori approfondimenti dove saremo lieti di condividere altro e raccogliere le vostre richieste grazie ancora grazie a voi grazie Paolo e grazie Stefano a prestissimo ci vediamo dopo per i saluti finali grazie mille